Ciao a tutti i miei cuoricini e benvenuti in questo nuovo video Allora, oggi andremo a fare uno slime unicorno Abbiamo le colle, in pratica, quelle più arcobalenti Ognuna in una ciotola, cioè un po' qui E poi alla fine, quando si formeranno, poi riuniremo tutti e verrà uno slime unicorno Anche se noi siamo molti in cuoricini, però vabbè, la stanza anche perché A me mi piacciono molto gli unicorni, quindi è per questo Allora, cominciamo dalla colla viola Ok, cuoricini, allora, ne metterò poca ognuno E forse è meglio fare una cosa Dai, esci, esci, ma dai Io che mi sto combattendo Ok, basta Cosa succede se la colla si asciuga? No, non lo so Comunque Ok, allora, ora mescoliamo il niente l'unla cosmico, però vabbè Mescoliamo il l'unla cosmico Comunque mettiamo un poco di bicarbonato Dai Ok Mescoliamo E poi andiamo a mettere il liquido per lenti Già si sta in pratica addensando un po' proprio Però andiamo a mettere il liquido per lenti Mamma mia, ma questo qua è proprio, cioè, questo liquido è proprio Ok, andiamo a mescolare Ok, i miei cuoricini Allora, se state, insomma, ho messo un altro pochettino di bicarbonato Vedete, si sta formando, mamma mia, si formano le bolle Cioè, se mescolo un poco Provo che fa si saranno formate le bolle Ecco, sta diventando lilla, tipo, perché il bicarbonato è bianco Fa diventare, tipo, credo che è pronto Guardate Guardate Un pochettino più ciecoso, ovviamente, perché lo dobbiamo lavorare un poco Però guardate che bello Guardate, cioè, è bellissimo Però diventa lilla Ed è veramente molto carino sto lilla Guardate che rumori Come si ammarra Ora andiamo a fare quello blu Ragazzi, guardate come si arrunga cuoricini Cioè, guardate È super bello Stai scendendo Mettiamo il bicarbonato Allora, mettiamo sul cucchiaio mezzo bicarbonato Cioè, così E andiamo E lo facciamo scendere Ora, in pratica, mettiamo nel cucchiaino sempre Dai, non scendere Basta Da bene Abbiamo capito che tu non vuoi E ora mescoliamo Mamma mia, Giuseppe Cioè, ragazzi Ovviamente, ne dobbiamo mettere forse due Ma già si è formato Cioè, guardate Cioè, subito l'ho mescolato Ok, allora andiamo a mettere un altro poco Sì, però ti devi staccare Grazie Bravo Bravissimo No, non ti devi riattaccare Vedi che è allungabile Ok Ok Mettiamo E andiamo Sì Cioè, è tutto attaccato nel cucchiaio No Mamma mia È tutto scivoloso Ok Ok Si sta formando Guardate È diventato Azzurro Guardate Ok Credo che lo posso prendere Devo forse un po' appiccicoso Vabbè È super allungabile Forse questo qua È più morbido Perché Questo qua Forse io avevo messo Troppo bicarbonato Guardate Cioè, è bellissimo È azzurro Sì Se notate quelle cose nere È che non lo so che cosa è successo Però va Super Bello Ok Ora Vi faccio fare Le smarr Guardate Bellissimo Vediamo la giravolta Tipo Mamma mia Adesso per allungare Lo faccio vedere Sembra tipo Non so Tipo Tipo la panna Sopra il cupcake Ok E ora andiamo a fare Quello Cioè Già è pulita la ciotola Guardate Cioè È pulita Allora Ok Ora andiamo a fare Quella rosa È bellissima Ok Basta così Perfetto Perfetto Chiudiamo E andiamo a mescolare Non la ciotola Non ne va E andiamo a mettere Mezzo cucchiaino Di bicarbonato Sì Sarebbe mezzo però Andiamo a mettere Un altro E basta Lo andiamo a mettere Così Anche se sembra Una nuvoletta Vabbè E andiamo a mettere Un poco Qui Il liquido per lenti Qui E andiamo a mettere Due Anche se D'altro Potevamo metterlo Anche dopo Però vabbè Lo andiamo a mettere Ora E già Ragazzi Si forma Cioè Comunque Dobbiamo ancora Mescolare Ecco In pratica Qui già Si sta Forma Che bello Wow Per me Il rosa È il mio coloro preferito Sì I miei colori preferiti Sono L'azzurro L'azzurro Sì Il giallo E il rosa Andiamo a mettere Forse un altro Pochettino Di Liquido per lenti Ok Così andiamo a me A rendere Meno appiccicoso Ecco In pratica Si sta staccando È molto piccolo La stecchina piccola Maga se tutti Ce l'hanno Però Non riesco a mescolare Wow Cavalli Cioè Ok Hanno pulito Tutti In pratica La ciocola Quindi non c'è bisogno Che mia madre Li pulisce Tu possiamo andarlo A prendere Vieni Sì Vieni Sì Per dire Togliere E quella Andiamo a Sì Tu ti devi togliere Tu pure Perché tu non mi sei Cioè Non ci saranno Allora Guardate Questo qua pure Si è formato Alla grande Per dire che si formano In trenta secondi E ora Andiamo ad unire Tutti E tre Slime Allora Andiamo ad unirli Perfetto Allora Allora Iniziamo da Così Mettiamoli così E li andiamo ad unire Wow Guardate Così Cioè Sì Sperate di staccare Guardate che belli Wow Guardate Cioè Si vedono Le sfumature di viola Rosa E azzurro Guardate qui Wow Ma questo qua Unicorno Cioè Ok ragazzi Ho degli occhiali Cioè guardate Aspettate Ciao È diventato in pratica Viola Perché il viola Ovviamente È tipo Molto più Più scuro Di tutti gli altri colori Quindi se lo mangia tutto Però comunque È bello Cioè Molto bello Questo slime Vediamo se riesco a starla La bolla Allora Sì Ok 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 Facciamo così Guardate Che bello Allora ragazzi Ora dovete sentire Guardate Allora Guardate Aspetta Forse non si senta molto Perché Bellissimo Wow È Bellissimo Comunque Cioè Guardate Mamma mia Guarda quanto si allunga E va bene Se vi è piaciuto questo video Lasciate tantissimi like E se vi è piaciuto anche questo slime Il cobaleno Non si prese Il cobaleno Tipo Di corno Vedete commentare O su Instagram Dove c'è lo slime O sulla community E iscrivetevi al canale Per non perdervi I miei video Iscrivetevi qui Cos'è lo slime Attivate la campanellina Per non perdervi nessun video Caricherò E saluto a Ela Roberta Nazumun Morena Ajara Ginevra E Akisha Ciao Coricini Ciao